Innanzitutto vorrei inviare un caloroso saluto dalla provincia di Huelva, in Andalusia, Spagna, a tutto il pubblico presente a questo evento e la mia gratitudine ai suorganizzatori per l'opportunità di presentare un'anteprima dei contenuti del quarto volume della serie dei libri Tourism Studies on the Mediterranean Region. Il prossimo volume è dedicato alla governance del turismo e il suo titolo completo è Tourist Governance Approaches for Facing the New Challenges of the Tourist Industry in the Mediterranean Region. Il principale motivo per aver scelto questo argomento affonda le radici nell'analisi della letteratura. Ci consente di argomentare che la pandemia ha inaugurato una nuova era per la industria turistica, con importanti sfide che richiedono un nuovo tipo di governance, insieme a un nuovo modo di valutare il successo del turismo in parallelo. La regione mediterranea non è un'eccezione, anche se con le sue peculiarità di ogni genere. Turismo di massa, overtourism, gentrificazione, turismofobia, solo sono alcuni esempi. Con l'attenzione su questi fattori, lo scopo di questo libro è riflettere sulla necessità di adattare il modello di governance del turismo, o meglio dire co-governance, ai requisiti di questo nuovo tempo. Questo compito è stato individuato come una lacuna nella ricerca che deve essere colmata, specialmente in questo periodo di riabbio del turismo, quando un'alleanza più ampia con la società è più necessaria che mai per una industria che è il principale messo di sostentamento in molti luoghi del vaccino mediterraneo. Tale alianza sarebbe altamente benefica, cercando un terreno comune di comprensione tra la intensificata percezione turismofobica dei residenti e quella filoturistica dei gestori delle destinazioni. Pertanto, la necessità di passare a un'altra fase nell'evoluzione della governance sembra chiara, ovvero come vengono gestite le relazioni tra la pluralità di attori pubblici e privati che operano in una destinazione. Aggiungendo un'altra prospettiva per giustificare perché è essenziale un sguardo nuovo, possiamo affermare che il tema della governance del turismo deve essere rivisitato a causa del profilo mutebole di questa industria, caratterizzato dalla sua natura globale, digitale e iperconnessa. Di conseguenza, dovrebbe essere posta una riflessione più profonda su questioni a lungo termine legate al modello attuale di sviluppo turistico, considerando fattori critici come sostenibilità, cambiamento climatico, economia circolare e rivoluzione tecnologica. Insomma, è stata richiesta una svolta dell'industria turistica, combinando cambiamenti nella sua governance e nella sua metrica del successo sociale, tenendo presente che entrambi sono estretamente legati e che, in una società democratica, la partecipazione diretta non può essere marginalizzata. Tutto ciò è in linea con le nuove sfide che questo settore deve affrontare nello scenario attuale, inclusa il coinvolgimento dei residenti nel territorio in questione. Per avere successo in questo tentativo, la capacità del leader della destinazione di comprendere e probabilmente riequilibrare le dinamiche di potere nella industria sarà un aspetto critico. Un nuovo modello di governance e leadership comporta necessariamente un cambiamento nella distribuzione del potere all'interno del sistema, il che richiederà un sforzo supplementare per rompere l'inerzia e superare le resistenze. In questa logica, il ruolo che le comunità locali dovrebbero esvolgere è una parte significativa dell'ambito di questo libro, riflettendo sul loro potenziamento. Ad esempio, fino ad oggi il tema della governance orientata alla comunità è molto poco esplorato nella letteratura turistica, nonostante questa formula sia stata studiata in altre aree. dovremmo tenere presente che la sostenibilità sociale come componente di una prestazione turistica di successo richiede una governance orientata alla comunità che promuova il suo potenziamento, portando coesione e benessere comunitario. È essenziale capire che il turismo si fa con le comunità locali, non solo per loro. CO contribuirebbe anche a invertire gli sguardi di disaffezione verso l'attività turistica che sono sorti nelle ultimi anni, prima e dopo la pandemia. È importante sottolineare l'esistenza di un ampio movimento, evidente nella letteratura, che sostiene che il turismo non dovrebbe essere valutato solo per il suo contributo al prodotto interno lordo e all'occupazione, o basato sulle statistiche sul numero di visitatori e prenotamenti, ma dovrebbe concentrarsi sul miglioramento della qualità della vita di coloro che risiedono nelle destinazioni. Per raggiungere questo obiettivo, le comunità locali devono essere poste al centro dell'architettura dello sviluppo turistico, concedendo loro una partecipazione attiva nei processi di planificazione che li conducono alla sua definizione. Per concludere, e basandosi sulle considerazioni precedenti, lo scopo di questo libro è offrire nuove prospettive sul ruolo della governance del turismo nell'affrontare le attuali sfide di questa industria nella regione mediterranea, che nello scenario post pandemia si sta profilando e persino aggravando in alcuni casi. In questo modo, il ruolo delle comunità locali e la dimensione sociale della sostenibilità, che non di rado trascurati, forniscono un punto focale importante. In questo nuovo volume ci aspettiamo di includere 11 capitoli che offrono alcune risposte alle questioni già citate, o almeno alcuni indizi o ispirazione per conducono a qualche risultato. Nella loro applicazione al turismo nella regione mediterranea, i campi di governance affrontati in questo libro comprendono argomenti come metriche della industria turistica, politiche turistiche sostenibili, interazioni tra locali e turisti, processo decisionale turistico inclusivo, di marketing, ruolo della comunità locale per il turismo sostenibile, partecipazione dalla comunità locale, turismo sostenibile e valorizzazione di fattori locali distintivi, partnership pubblico privato, governance territoriale in aree protette e governance orientata alla comunità. La presentazione di studi di Cassi illustra, in un buon numero di capitoli, come gli argomenti corrispondenti si hanno affrontati in diverse destinazioni situate in paesi come Italia, Croazia, Spagna e Tunisia. Questo carattere multinazionale è confermato dall'origine accademica degli autori e dei revisori. Anche se la maggior parte degli autori lavora per istituzioni di istruzione superiore italiane, altri provengono da istituzioni spagnole, portoghesi, tunisine, olandesi e britanniche. Lo stesso vale per il panel dei revisori, la maggior parte dai quali proviene dalla Italia, ma anche dalla Spagna, dalla Turchia, dalla Grecia, dal Portugalo e dal Regno Unito. Per finire, grazie un'altra volta per avermi permesso di partecipare come guest editor, in particolare ai estimati colleghi Piera Bonincontri, Luisa Enriccello e Roberto Micera, editori della serie di libri. Vi invio i miei più cordiali saluti e migliori auguri a tutti. Congratulazioni per questo convegno e a vostra disposizione.